Buon pomeriggio a tutti ben ritrovati e buon martedì eccoci Buon pomeriggio addirittura buon martedì oggi e perché non può essere un buon martedì oggi scusami perché no se uno lo vede domani buon martedì anche a te lo vedi di mercoledì è bello in macchina che vi inviaggio come va ragazzi tutto bene che si dice infatti i martedì non sono buoni per definizione di venerdì mart come ci penso tutti i giorni sono buoni per definizione quando non c'hai voglia di fare niente ma invece c'hai voglia di fare come vanno i traslochi ormai hanno capito la situazione ininterrotti lenti e ininterrotti sto facendo ordini Thoman hardware Ikea è un continuo e ho ancora il background non è un buon segno però ecco vabbè leggo lo fondo nel caso vi interessi no hai sbagliato mi si è rotta la lavastoviglia e la lavatrice ah in combo tutti e due se qualcuno di voi è un tecnico l'hai detto come quando ti arriva il fulmine sul computer è partita la scheda video e non so qualche altra cosa no però la lavastoviglia è rotta da prima della pandemia bestia quindi si è andato con olio di gomito no si è rotta prima della pandemia poi è arrivata la pandemia abbiamo detto vabbè ma mo chiamiamo il tecnico entra un untore ci ammazza e quindi siamo stati tipo tutto il periodo del lockdown senza chiamare nessuno nel frattempo le mani si erano riabituate alla alla vecchia operazione medievale del lavaggio dei piatti e quindi ci siamo stati tranquillamente soltanto che ultimamente abbiamo avuto amici a cena per un paio di giorni consecutivi e ci siamo ricordati del dramma e quindi chiamiamo il tecnico ma basta fare gli amish torniamo a fare no guarda cioè lavare i piatti a mano ormai per me per me sarebbe una tragedia è una tragedia è una tragedia se mi dai dei guanti veramente ti posso anche smontare un'automobile ti giuro ti giuro l'importante è che non mi fai toccare niente con la pelle però se mi dai dei guanti veramente vengo ti scrosto il tetto quello che vuoi a te bastano dei guanti per partire ti piacciono i lavori manuali mi pare no non il mio problema è il toccare roba no non sono troppo sensibile però mi dà fastidio anche solo il piatto anche a me unto sì anche quello anche a me tantissimo capito e poi cioè quando li metti nel lavandino ma cosa stiamo parlando vabbè quando metti i piatti quando metti i piatti nel lavandino poi apri chiudi l'acqua magari non l'hai pulito benissimo si accumula l'inferno un piccolo ecosistema ok quindi è proprio tutto invece con i guanti lo prendo proprio in braccio li metto tutti nella stoviglie tutto così bene tutto così è un normale martedì io adesso ho questa immagine di te con con i guanti Vileda rossi ce l'ho fucsia ce li ho fucsia molto più raffinato prossima foto su instagram con i guanti fucsia tutto bianco e nero ma con i guanti fucsia concordo con carimi il cibo bagnato mi dà sempre un effetto schifoso poi a toccare robe sporche tipo per l'auto poi mi tocca stare a lavar le mani col sapone per mezz'ora è lì che sbagli devi usare il sapone quello giusto l'acido muriatico no l'acido muriatico sulla pelle fa anche l'acido muriatico no no non lo fate mi raccomando comunque io ho saputo una cosa oggi proprio dedicata ai videogiochi tornando a una delle cose che ci appassiona una delle cose da cui dovremmo parlare a parte i piatti secondariamente secondariamente eh counter strike 2 eh te l'ho detto io infatti è uscito Francesco così a gamba tesa raga ma avete sentito di counter strike 2 no no la cosa bella a me la cosa che mi ha basito il fatto è che proprio appunto quando abbiamo scoperto questa notizia il pensiero immediato che proprio ha urlato Karim no tutti parlano di Budokai di Kaiji 4 esatto è vero perché oramai giocate tra te e Karim giocate tutti di triple A maledizio Francesco Francesco descriviamo bene come è successo tu Francesco non ha detto hanno annunciato counter strike 2 ha detto hanno annunciato city skyline 2 e nessuno fregava un cazzo Francesco nessuno ne parla fate una ragione i giochi tuoi sono inutili ma non è vero perché siete dei cazzo di ignoranti perché a voi se diventano degli americani che a voi basta che vi tirano un triple A di Sony o di Microsoft oh quando escono i giochi seri tipo city skyline poi è uscito company o virus si parla di cs2 si parla nelle tue nicchie però Francesco domanda company o virus Francesco tra tutte le persone che conosco l'ho giocato solo io pensa solo io nessuno sa cos'è company o virus e su city skyline scusa mi descrivi il combat system come il feeling dello shooting no ragazzi ci sono elementi gdv siete proprio dei peasant è un soul siete proprio dei peasant un'ora un'ora ogni euro la tira fuori no vabbè ragazzi si scherza si scherza ovviamente nel senso vedremo vedremo quando dobbiamo scherzare io in vita mia non giocherò mai infatti ricordo la company o virus hanno fatto pure un film quanto è sconosciuto no no è vero è vero è vero però hanno fatto anche un film su battlefield e dovrebbe essere sconosciuto da quanto è brutto quello si so se l'avete visto quel cagaturo atomico di act of valor act of valor era il film di battlefield si era stato fatto proprio la campagna pubblicitaria di lancio era tutto un battlefield mamma quanto è brutto quel film io e Nicola l'abbiamo visto al cinema io a un certo punto ho avuto un cagotto fulminante mi sono perso delle battute sono andato al cesso a cagare so per certo che era colpa del film unica volta in vita mia che ho cagato al cinema posso essere proprio a me pure una volta sola è successo con che film la mummia giustamente ok il primo la mummia il primo la mummia no ma lì era un problema diciamo di digestione arrivato all'improvviso ecco non so se provocato dal film o d'altro ecco e non eri a gubbio no 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 avete mai dormito al cinema no 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 io sono uno di quelli che al cinema ci va alle 3 e mezza no eh sì se aprissero al mattino ci sarei io in mezzo alla sala e la sera arrivo cioè la sera dormirei è per quello che non vado io ho dormito solo con un film ho dormito col primo avatar con gli occhialini in testa ho dormito storti così hai dormito in 3D praticamente ho dormito ho dormito in 3D anche perché credo che la sala non avesse degli occhialini proprio ottimi cioè nel senso mi facevano un effetto molto oscurato sul film lo vedevo molto più scuro e tant'è che verso la fine mi ero veramente stancato tanto agli occhi ho guardato una mezz'oretta così senza occhialini sì in certe sale era doloroso sì quando non erano abbastanza ben fatte non c'era una certa pulizia o una posizione sbagliata nella sala era una violenza fisica non da poco vero verissimo che poi questa è una cosa che vale per tutti i film non solo quella in 3D sarà che noi siamo a Termoli no? e noi a Termoli vedete sapere che abbiamo un cinema parrocchiale cioè proprio della parrocchia e non è propriamente insonorizzato nel senso che sta proprio al centro di Termoli e soprattutto d'estate tu non è che ci puoi andare tipo le tre e mezza perché è l'orario in cui escono i ragazzi con i motorini si incontrano prende il caffè e smarmittano dappertutto quindi tu senti più quello che succede fuori che quello che succede dentro io ultimamente se devo andare al cinema prendo e vado a Campobasso mi hai ritirato i ricordi del cinema parrocchiale che c'era qui a Bari che era praticamente con le sedie punitive che erano quelle di legno la parte di sotto piegata sul tram col cilicio erano più o meno quelle le sedie carino era veramente punitivo veramente avevo un audio di merda questi sono i ricordi che avevo e ci sta ci sta io il signore degli anelli ho sentito solo le musiche perché ero seduto dietro e quindi le voci provenivano per la maggior parte dai frontali e io stavo proprio dietro e dietro ultima fila ho sentito solo le musiche buona parte dei dialoghi le ho dovuti stavo così cercavo di capire il labiale eh questo è il cinema parrocchiale questo è il problema il problema dei cinema in Molise è che se tu vai a non lo so magari pure a Torino non lo so però ai 3 e mezza non c'è veramente nessuno se ci vai no non c'è nessuno c'è poca gente nessuno nessuno no io vado sono andato ripeto ultimamente a vedere qualcosa con la mia compagna eravamo da soli dentro al cinema ed è un po' cioè da una parte figo vaffanculo tutto nostro il cinema però dall'altra mi mette una tristezza guarda in realtà a seguito della pandemia i cinema hanno subito una mazzata non da poco cioè io parlavo appunto con chi lavora e in parte anche dirige il multicinema qui a Bari il Galleria e praticamente hanno avuto cioè hanno avuto delle mazzate tremende cioè infatti tutti gli spettacoli quelli più tardi non ci sono più cioè ma in generale stavo leggendo che in tutti in tutto un po' in tutto il mondo c'è stata questo secondo me rivalutazione del dell'on demand a casa e praticamente piuttosto che andare al cinema ma in generale secondo me cioè la pandemia ha creato questa questa chiusura ecco che si sta facendo sentire ancora ecco il problema è che secondo me la pandemia è arrivata nel momento stesso in cui lo streaming stava diventando veramente cosa grossa perché io mi ricordo praticamente poco prima dell'arrivo del primo lockdown io mi ero appena fatto l'abbonamento a Disney cioè erano i primi giorni di Disney Plus per dire io mi ricordo che nonostante ci fosse poca roba sul catalogo nei primi giorni di lockdown mi sono schiumato Disney come se non ci fosse un domani anch'io madonna è così come tutti i bambini chiusi a casa ma poi su Disney mi sembra che ad un certo punto abbiano deciso di mettere i film che dovevano uscire al cinema e hanno messi direttamente su Disney fu proprio la prima a fare questa tipologia di cose partito sfortunato con Mulan però sì e l'hanno e lì hanno proprio aperto il vaso di Pandora ma allora si può fare si può anche fare il cinema insomma da casa a me dispiace sinceramente davvero tanto per i cinema però effettivamente dopo ci sono stati dei film che sono andati estremamente bene al botteghino ci voleva la botta per far ripartire tutto Top Gun Top Gun sì Top Gun Maverick ha fatto la botta Maverick 2 pure però sotto sotto raga questo è un problema che va avanti da prima della pandemia e secondo me il motivo è semplice a meno che non vivi in un posto che ha delle sale veramente della madonna che quindi hanno un valore aggiunto in termini di audio e video io vi giuro per quello che sono i cinema limitrofi a casa mia io vedo i film meglio a casa mia con il mio impianto col mio televisore io vedo i film meglio a casa le ultime 2-3 volte che sono andato al cinema ho visto i film come non voglio vederli con i neri marroni con sto audio che se io mi metto a destra l'audio piatto sì mi metto a destra della sala è tutto sbilanciato a casa mia ho la stanza fatta apposta col controllo delle riflessioni cioè il discorso è pure questo che negli anni 80 se tu ti volevi vedere un film a casa tua nell'89 nel 90 ti volevi vedere un film a casa tua avevi la videocassetta della pezzotta della biblioteca guardata 150 volte con le linee praticamente di quanto era usata sì con le linee tu capito sul tubo catodico del merda del salotto che all'epoca non tutti avevano il televisore grande erano comunque piccoli con l'audio di quel televisore che ho sonato tu ti guardavi è chiaro che andavi al cinema e dicevi cazzo è un'altra esperienza e adesso l'altra esperienza è che hai il mal di schiena il cinema diciamo sono le sale giochi dei film praticamente bravissima che bella metafora però in effetti gli arcade si sono andati sono andati un po' ad estinguersi proprio per via delle console che hanno portato il gioco è più o meno quello il principio se tu non metti una croce sul sul fatto che ecco se tu ti potessi vedere i film che esce al cinema da casa il cinema è proprio zerto sarebbero già tutti chiusi oddio secondo me è male però è anche una questione di pigrizia ragazzi perché per quanto si voglia dire io vado al cinema una volta l'anno ormai praticamente in questo periodo della mia vita ma rimane il fatto che è un'esperienza molto più importante della televisione per quanto si magari se spendi 6.000 euro di setup hai fai di fare la casa apposta in 27.1 esatto sono stato in una casa così e ti rendi conto che è merda sì no è una cosa che non devi vivere perché quando entri in quel tipo di home theater dici cazzo e in effetti però in generale il cinema è comunque un'esperienza da non sottovalutare e la pigrizia che ti porta a non volerci andare è veramente brutta ma sono tante cose non è solo la pigrizia e la pigrizia è nata perché c'è l'alternativa adesso come diceva Mario in più c'è il problema dei soldi ed è la gente che ci va a parte quello ma i soldi sono un problema abbastanza importante più che altro come paragone perché adesso con 10 euro al mese ti fai l'abbonamento a qualsiasi sito di streaming è buona lì al cinema saranno 12-13 euro solo di biglietto se ti vuoi prendere anche qualcosa da mangiare diventano quasi 25 euro per guardare un singolo film bene ma un singolo film e la gente preferisce è come il discorso con i videogiochi con le ore spese in base a quanto hai speso è la stessa cosa quindi inizia a esserci tanti fattori dalla pigrizia ai soldi al fatto che soprattutto chi abita nei paesi più piccoli ha dei cinema che sono di merda sì sì capi sono mille cose sono d'accordo con uno dei nostri ragazzi che dice ho visto The Whale al cinema alla premiere c'è una 200 props cineforum dopo momento social eccetera ecco secondo me a quel punto bisognerebbe un attimo ripensare il cinema invece di fare spettacoli uno appresso all'altro piuttosto se ne fa uno fatto bene si paga anche qualcosina di più ma ci può essere un discorso successivo al film se ne può parlare ci può essere ecco quel momento di socialità che secondo me adesso le persone cercano di più perché proprio il cinema te lo puoi fare a casa non servono 6.000 euro però oggettivamente te lo puoi fare a casa e se non c'è quella cosa in più che non è solo l'uscita no perché costa quindi preferisci andarti a mangiare un panino ci deve essere un momento un po' più sociale dove si può fare una chiacchiera un discorso forse lì si potrebbe in qualche modo riuscire a riportare in auge il cinema però di qualità di qualità abbiamo due punti di vista diversi secondo me almeno parlo per me per la gente che conosco la gente dopo la pandemia cerca meno socialità c'è stato un momento di over socialità nelle prime due settimane dopo la pandemia poi boom si è ritornati sotto adesso sta uscendo tutta la gente che è arrivato arriva dicendo posso ammettere che durante la pandemia stavo molto meglio perché non c'era nessuno da nessuna parte non dovevo interagire non dovevo parlare con nessuno e quindi giustamente la mia pandemia può ragione il mio lockdown anzi non la mia pandemia il mio lockdown inteso come sofferenza del fenomeno è finito nello stesso momento in cui hanno detto no ma comunque si può passeggiare ma a distanza dagli altri cioè nel momento in cui mi hanno detto puoi andare all'aria aperta ti puoi fare la passeggiata nel bosco no problem io avrei detto vabbè dove firmo l'umanità va bene così in generale una cosa positiva della tragedia che è un minimo di consapevolezza igienica è aumentata nella specie ma poco però c'è di molto secondo me se ti fermi un attimo a pensare cioè è proprio cioè pure il fatto dei distributori delle disinfettante che in molti utilizzano dovremmo poi Nicola poi rimettici in careggiata col discorso perché siamo un attimo perché se non fa Nicola non lo fa nessuno ho pensato di fare quello che ha detto ha fatto Karim però stavo pensando però è intrigante fin dove si arriva sai qual è una cosa di quelle Francesco che mi ha stupito molto e che adesso un po' mi un po' mi turba io non sono germofobico non anzi ho fatto cose giusto per dare fastidio a persone intorno a me germofobiche ogni tanto lo faccio per vedere la loro reazione mi fa molto ridere una cosa che un po' mi ha turbato adesso è stato prima durante la pandemia vedere i cuochi a vista con la mascherina e adesso che l'hanno tolta mi fa strano che i cuochi non abbiano la mascherina è strano perché dico no forse l'unica cosa che dovresti tenere in cucina la mascherina perché senza la mascherina mi stai respirando tutto a distanza ma tu hai notato ti sei chiesto perché durante la pandemia il kebab aveva meno sapore era meno aromatizzato aveva meno quel unto quel sapore chiediti il motivo qui a Torino è pieno di paninari proprio i camion aperti che fanno i panini il sapore sarà sceso le leggende che proprio per oliare il panino usavano la mano stringevano il panino contro la mano e poi ci mettevano la carne pure le mozzarella quando le vai a fare vanno fatte senza guanti le zuppe te le servono col pollice dentro che è importante vabbè ragazzi la verità è che l'umanità passa attraverso cose di questo tipo cioè nel senso non si può evitare che gli altri esseri umani manipolino quello che cioè chi ti fa i massaggi ti butta le mani addosso per un'ora e mezza però non è che te la prendi a male perché ok lo deve lo deve fare così come cioè nel senso ti schifi perché magari uno straniero ti ti tocca il panino quando te lo imbottisce però poi vai in discoteca una tipa là davanti che potrebbe tenerci dentro 50 malattie per quanto ne sai una pantegana praticamente cioè capito però comunque nel cesto della discoteca come tutti sappiamo il tempio della sterilità e dell'igiene si scopa senza nessun problema non puoi schifarti del paninaro fuori dalla discoteca se tu ti sei tirato fuori l'augello in un posto che pare il lazzaretto dei promessi scoti io la vedo così infatti il pullman per me continua ad essere uno di quelle di quei cubi di vetro dove ci stanno i topi che poi esplodono è incredibile che io non sia esploso sui pullman tutta la mia vita con l'inferno che era di gente che tocca tossisce poi tocca tutto e tu l'hai visto e poi ti tieni perché comunque ti devi tenere quindi se siamo sopravvissuti a quello veramente riguardo a questo avete mai visto su youtube la pulizia dei sedili del pullman blè no perché esiste non la guardate mai l'ho visto l'ho visto poi ti viene voglia proprio di stare sempre in piedi sì è vero è una merda è una merda vabbè però questa è una cosa che fa tanta scena sapete quelli che vendevano tipo le vaporelle gli aspirapolveri nelle case a domicilio porta a porta ok loro basavano il loro marketing non sulla bontà del prodotto ma sulla tua vergogna nello scoprire quanto sporco avessi in casa immaginatevi capito la casalinga anche un po' fissata con la casa capito un po' precisina questo qui entrava vedeva capito il pavimento uno specchio tutto pulito adesso signora la faccio vergognare io non si preoccupi cominciava ad aspirare sta mugna dal materasso veniva fuori questa pelle morta che pareva prosciutto cotto proprio tutta una cosa chiaramente la signora diceva oddio mio cosa ho fatto per tutta la vita ho sempre sbagliato a pulire dovevo pulire molecola per molecola e allora ti vendono questo cazzo di aspirapolvere che sagnifica tutto però in realtà noi siamo circondati di chiunque abbia un mouse davanti a sé e abbia il coraggio di alzare i tasti lo può tranquillamente constatare quello oppure basta vedere sotto la tastiera cosa c'è cioè ragazzi se avete una tastiera un minimo vissuta togliete un paio di tasti guardate sotto e fatevi venire lo shit no 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 basta anche solo girarla al contrario un pochino e fare tra tra così ed esce un palino in vero hai presente quella puntata di Futurama dove a Bender cresce il pianeta lo giri iniziano a cadere persone esatto mi spiace pure pulirla c'è stata una cosa un po' what the fuck ho visto dalla chat di Twitch praticamente che Forclose moderatore c'era un termine bloccato che ha consentito folletto perché dovrebbe essere un termine è offensivo cazzo pure folletto è offensivo a parte che non è vero perché il folletto è una cosa specifica se poi tu lo usi per un'altra cosa è comunque una cosa specifica il folletto vabbè l'ho capito però voglio dire ma chi l'ha messo nelle parole no 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 di default era una parola di default folletto infatti vedi a tutti che scrivono in chat a me per esempio che sono amministratore che mi segna consentire consentire tutti che hanno scritto un po' folletto non si può dire manco folletto porca miseria no a quanto pare non dire che non si può dire più niente che sennò poi ti danno dell'offensivo per le scopre capisco falletto che è body shaming ma falletto falletto vogliamo parlare di videogiochi oppure si vuole parlare di aspirapolta adesso io adesso io tiro fuori un cazzo di argomento ma noi ne dobbiamo discutere non parlare allora tu sappia per finire la live io farò io farò la clip di questo adesso io tiro fuori il cazzo finisce la clip l'hai detto nella giusta maniera si budokai tenkai c4 ok l'hanno annunciato perfetto la folla invisibilio vai mainstream a voi perché cazzo perché cazzo esultate per il 173esimo gioco di lotta di drago ma io vorrei allora io li ho tutti fisici io li ho tutti fisici tutti fisici io voglio capire questa gente perché voi siete contenti poi dite sempre non esce nulla di nuovo e poi esultate per budokai tenkai c4 e non per compagno virus 3 bravi bravi però anche se ti scala se permetti è un reiterarsi di qualcosa perché tenkai c2 tra l'altro perché già tenkai c si è rovinato col terzo per me cioè già era già rovinata la saga di tenkai perché tutti dicono i tenkai c sono i migliori il 2 è il migliore il 2 è il migliore il terzo già ai tempi quando si giocava tutto tutti dicevano e insomma e siamo tutti tornati al 2 tutti me lo ricordo molto bene però poi ho provato Raging Blast ho provato Raging Blast 2 il già ricordarti Raging Blast è un top ma io ce l'ho tutti fisici perché io li ho avuti tutti tutti forse l'ultimo è il Fighters non ho avuto anche Xenoblade Xenoblade Xenoverse Xenoverse 2 e io vorrei capire siete contenti del nuovo tenkai c perché allora qui comincio io comincio io perché vorrei far notare a tutti a tutti come è stato realizzato il trailer di annuncio cioè come comincia il trailer di annuncio di Budokai Tenkai C4 l'avete visto tutti o qualcuno non l'ha visto? io non l'ho visto non l'ho visto ok quindi l'abbiamo visto io e Karim va bene il trailer di annuncio di Budokai Tenkai C4 comincia con un 13 forse 15 pollici 4 terzi CRT che fa vedere i vecchi Budokai Tenkai C4 ecco che cos'è Budokai Tenkai C4 e lo sanno benissimo anche loro cioè è è una nostalgia weapon totalmente funzionale dritta come se fosse veramente un'arma ultrasuoni vorrei fosse molto altro nel senso che esiste Dragon Ball Fighters e quindi non deve essere quello perché non può esserlo per definizione visto anche lo stile completamente libero e ampio esteso di quello che è il combat shonen like che abbiamo in quel genere in quel sottogenere di picchiaduro però Budokai Tenkai C4 è comunque sempre stato molto caotico aveva una forma di complessità molto figa ma aveva i classici 100 personaggi di cui 76 sono gli stessi con un reskin ma andava benissimo perché era perché noi giocavamo Budokai Tenkai C4 quando avevamo nei nostri ricordi Final Fucking Bout che era ovviamente un parallelo molto infelice oppure Ultimate Battle 22 io li ho giocati come Karim cioè in questo siamo fratelli quindi Budokai Tenkai C4 era il sogno incredibile mentre si stava sviluppando l'idea di quello che sarebbero stati i giochi del futuro il fatto è che paradossalmente i giochi del futuro sono passati da un oblio orribile a Fighters che invece è un picco pazzesco quello che dovrebbero fare sarebbe non abusare dell'effetto nostalgia non fare un altro fill in della stessa roba che tanto comunque fa venire la voglietta perché siamo ragazzini nel cuore ma buttarci dentro un po' di vera complicazione tecnica da picchiaduro e in quel caso potrebbe uscire una madonna ma non tutti vogliono una complicazione tecnica da picchiaduro quella è la cosa perché ma in situ Leonardo Master si può fare allora sai qual è il problema cioè dipende pure di genere di picchiaduro che è se tu prendi uno Street Fighter o prendi un Tekken quelli sono fatti per appunto per la scena competitiva e sono da sempre praticamente utilizzati per le competizioni se prendi un gioco che è praticamente basato su un'opera manga anime ti aspetti che ci siano più mainstream ti aspetti che appunto ci siano un po' un po' però molta l'alontananza cioè prendi con le pinze quello che ti dico un po' come il discorso che abbiamo fatto e Hogwarts Legacy si avvicineranno molti che non sono giocatori devi poter anche qui mettere nel contesto appunto Dragon Ball persone che magari giocano poco o che non giocano il genere o che non giocano proprio quindi non puoi fare un discorso ma non l'hanno più fatta questa cosa tipo con Fighters non l'hanno fatta questa cosa Fighters è un gioco di lotta vero e proprio e infatti è molto più piccolo nel suo essere un gioco di Dragon Ball perché non l'hanno fatto per la massa beh secondo me lì si tratta soltanto di rimanere molto slegati la campagna la imposti per far giocare tutti la campagna la imposti così poi però come diceva Michele lo fai facile da giocare nel senso che anche col button smashing te la dovresti riuscire a cavare in una campagna bilanciata per un'esperienza per babbani tra virgolette poi però sull'online sul competitivo lì ci metti il carico da 90 fai delle cose particolari ok io vi dico la verità l'unico gioco di Dragon Ball che ho giocato per tanto tempo era un gioco per Super Nintendo ho capito del quale avevo l'adattatore perché la cassetta era giapponese ma è il gioco di ruolo no era un picchiaduro pure quello era un picchiaduro a scorrimento orizzontale se non ricordo male quando si arrivava al bordo dello schermo si caricava proprio l'altra l'altra schermata era molto bello avevi terra aria però volavano poco volavano di qualche metro in su e c'era Broly c'era Broly quello lì con quel Saiyan che poi si è visto solo nei film non faceva parte di Dragon Ball canonico c'era un film all'epoca dove compariva lui non so se poi si è uscito nei Dragon Ball post GT onestamente perché dopo GT non ho voluto vedere più niente che fosse di Dragon Ball manco dipinto sul muro però quel gioco mi ricordo mi piaceva tantissimo era veramente fatto benissimo però gli altri ho giochicchiato così qual era quello con i personaggi molto molto piccoli e mappe molto larghe e la possibilità di girare in 32 no in 3D era in 3D era in 3D no i personaggi erano sprites 2D ma l'ambiente era 3D e forse era Ultimate Battle 22 però non mi ricordo se ci fosse l'arena ce n'era un altro c'era Ultimate Battle 22 e ce n'era un altro molto simile con un nome diverso ma che erano da piccoli quando non capivano in chat dicono Shin Budokai questo era come? Shin Budokai dicono no non credo Shin Budokai non era quello mobile cioè non mobile per PSP tipo Shin Budokai adesso non mi ricordo i nomi vado a memoria Legend Super Dragon Ball Madonna allora era Legends non era il Final Bout non era il Final Bout perché lo sto guardando adesso non è questo com'era quell'altro che dicevate raga? Legend Dragon Ball Legend questo è vecchio però raga parlo veramente di tanti anni fa e prova Legend no i personaggini piccoli non me li ricordo era per PlayStation 1 addirittura e per PlayStation 1 mi sa che c'erano due da noi era il Final Bout e l'Ultimate Battle prova a vedere Ultimate Battle 22 che magari è quello l'Ultimate Battle 22 eccolo qui allora era quello con le icone un po' più piccole con gli sprite più piccolini esatto quello mi ricordo mi piaceva parecchio no no non è questo gli sprite sono troppo grossi quello che dico io era veramente arrivavi a vederli microscopici personaggi Dragon Ball Legacy che cazzo cos'è Dragon Ball Legacy devo cercarli anch'io Legacy però questi sono quelli per Game Boy Advance cioè questi sono quelli per Game Boy Advance che erano avventure non erano giochi di lotta erano proprio avventure vere e proprie Sinergo secondo me a te farebbe cacare ogni prodotto animato legato a Dragon Ball uscito dopo GT no no mi fa cacare anche GT tranquillo tanto uno dei primi giochi che abbiamo avuto di Dragon Ball sulla Playstation aveva già il GT incorporato Final Bout aveva anche Gorilla aveva Vegeta Gorilla aveva tutto era era una merda in realtà Final Bout però era nostro era figo sì io ho per Gamecube l'ho comprato originale perché volevo averlo visto che ce li ho tutti i giochi di Dragon Ball ho comprato Dragon Ball Z Sagas che non so se sapete che cos'è è uno dei pochissimi action in terza di Dragon Ball molto prima di Kakarot ed era osceno però l'ho comprato no ero osceno però l'ho comprato fisico perché lo volevo avere non l'ho mai avuto l'ho provato me ne sono pentito immediatamente però insomma giusto perché no perché io sembra che non voglia i giochi di Dragon Ball e che li ho tutti e forse è quello il problema che non sono così contento di Tenkai G4 chissà io spero venga fuori una roba incredibile anche a livello di contenuti spero sicuramente lo proviamo deve deve perché il grosso problema che tra l'altro casca un fagiolo pazzesco una sincronia pazzesca che ciò che accade a Raging Blast è che lui è arrivato dopo i Budokai Tenkaichi e quindi abbiamo avuto praticamente anche a livello di mercato a livello di impatto a livello di vendita del prodotto un picchiaduro che aveva 12 personaggi hai proprio sbagliato una cosa è Fighters un'altra è Raging Blast che non è Fighters quindi resettare la conta personaggi a un numero ristrettissimo senza profondità per poi cominciare ad ampliarli è un pessimo modo di introdurre un picchiaduro shonen ecco specialmente quando non era poi così neanche eccezionale in generale il titolo Budokai Tenkaichi 4 dopo 16 anni e la cosa che mi piace è che sia stato chiamato 4 che non sia il reboot quindi ho una speranza che abbiano la scintilla di fare le cose a un level up però non lo so è un universo molto delicato l'anime tie in tra virgolette ma voi che cosa chiedereste a un gioco a un gioco di Dragon Ball tecnicamente penso che con Fighters siamo di fronte a un gioco no sì quello è anzi sì Budokai Tenkaichi non sarà a quel livello mai però non credo proprio la vedo molto difficile non mai dire mai il virtuale l'arifmetico però insomma quello che a me piacerebbe moltissimo avere è una esperienza molto scenografica ma non solo scenografica quindi con ovviamente la libertà di muoversi in un ambiente 3D come Budokai Tenkaichi ha permesso la diciamo chance di poter costruire un proprio team per avere un gameplay un po' più stratificato distruzione degli ambienti scene da vedere che siano incredibilmente scenografiche ma non ruba tempo è una cosa è facile essere molto capricciosi ma penso sia giusto essere capricciosi con videogiochi di questo tipo perché fanno del brand una forza trainante pazzesca e quindi hanno un botto su cui lavorare per più l'altro è giusto essere capricciosi perché non è che ne sono usciti due di giochi cioè il brand è stato molto se esce qualcosa di nuovo è perché devi avere qualcosa di nuovo da dire sostanzialmente quindi capisco perfettamente no la spettacolarità come dici tu unita all'attenzione per il tempo del giocatore che non si deve guardare 300 volte la stessa cutscene di 10 secondi è un'ottima è un'ottima osservazione perché la tua prima partita sono sorprendenti quelle cose alla ventesima puoi morire vero io parlo poco perché ho un po' subito Dragon Ball essendo usciti inizialmente per una console io ho giocato sempre veramente a casa di amici e prendevo solo mazzate cioè qualsiasi personaggio prendessi gli altri erano iper schillati e quindi ho sempre preso mazzate poi non li ho recuperati ho giocato qualcosa con Mario però non mi hanno mai troppo appassionato quindi non come Naruto almeno non come Naruto che è la minnezza e nessuno no qual era l'ultimo Naruto che abbiamo l'ultimo Naruto che abbiamo provato e adesso mi sono dimenticato completamente il era Boruto Tonaruto Boruto era Boruto era Boruto penso di odiarlo eh sì penso di odiarlo è uscito da poco il nostro gameplay in cui abbiamo i pantaloncini corti e le magliette perché l'abbiamo girato tipo nove mesi fa è uscito adesso è uscito adesso comunque era veramente insomma tutti i ricordi che ho collegati a Goku era io che prendo mazzate dagli amici e quindi è un po' triste no io in genere sono sempre stato una pippa nei picchiaduri non mi ci sono mai applicato l'unico motivo no perché perché mi ricordo che quando ci giocavi le prime volte tutti erano sflesciati dal fatto che si potesse combattere in aria no ma quel cioè tu prendi una persona come me che già non usa bene il gankpad adesso non lo usa bene pensa dieci anni fa quando quando era e c'era il combattimento in aria io già ero una pippa a terra poi figurati quando partivano le sequenze in aria veramente brutti ricordi ma raga ma a proposito di giochi un po' così un po' ostici col gamepad ma questo Wulong con l'Indian l'avete provato? l'ho solo provato io malgrado l'ho solo provato ma ho avuto un impatto talmente positivo che faccio una maratona questa settimana perché onesto questo team ha dei problemi giganteschi proprio caratteriali come se fosse una questione proprio personale sono ormai dichiaratamente penso in maniera la palissiana incapaci di comunicare in maniera diciamo qualitativa la vita del giocatore le proprie meccaniche e gameplay io ho fatto il tutorial di Wulong e ho riso tutto il tempo senza infastidirmi perché ormai ho capito che dopo tutti questi anni il leader è quello le supercazzole sono incredibili su Wulong ci sono veramente supercazzole perlomeno di localizzazione chissà magari nell'originale non è così sono delle supercazzole descrittive che devi quasi leggere l'avvocatese ma sai che cosa hanno fatto l'errore madonna cioè a parte potrebbe essere un problema di localizzazione ma il vero problema è che ti parlano di cose che tu dovresti conoscere ma le scopri tre ore dopo cioè ti parlano di cose che tu non puoi applicare quello è il minimo quello è il minimo di quello che succede nella prima perché per me lo scoglio più grande è stata la prima ora di Wulong e adesso sono arrivato a dieci perché non mi sono più staccato perché mi piace da morire però la prima ora di Wulong è un incubo cioè proprio un incubo nel senso che ti dice un terzo delle robe che ti servono e poi ti manda lo sbaraglio in più ti danno le solite armature del solito team ninja che c'ha sto problema che se non metto 846 statistiche nella stessa armatura inizia proprio la prima armatura che ho preso era un libro tre abilità quattro sotto abilità e degli effetti passivi grayed out che non ti vengono spiegati esatto perché poi attacco difesa stamina sono ormai superate adesso c'è fuoco acqua terra quindi tu devi più o meno andare in tre sottomenù per capire cosa sia acqua in questo gioco qua e poi la cosa che mi ha fatto più ridere sono le descrizioni delle abilità tipo equilibrio no ma neanche a volte ci sono parole tipo caparbietà queste cose esatto aumenta la caparbietà e tu vai a vedere la descrizione di aumenta la caparbietà caparbietà e c'è scritto viene aumentata la caparbietà questa è la descrizione di aumenta esatto l'eredità era eredità che diceva aumenta la cosa che mi ha fatto ridere di più è il tutorialino quando ti danno la un colpo speciale con il fuoco no e ti spiegano gli effetti elementali e ti fanno vedere il filmatino dove c'è uno che ti tira una roba di ghiaccio e tu dopo un'ora gli spari il fuoco cioè da quel filmatino si capisce soltanto che devi essere dispettoso quanto l'avversario ah ghiaccio to fuoco si capisce un cazzo è terrificante però diciamo che hanno hanno fatto un mashup interessante di di Sekiro e Nioh sostanzialmente e anche c'è un po' tutto anche cioè hanno quello che la cosa bella secondo me di Wulong è che il sistema di combattimento è vero che è un po' improntato verso il Perry e il ritmo un po' alla Sekiro ma ti danno un 360 gradi di possibilità per battere i nemici ci sono gli attacchi dall'alto c'è sia la parata che la schivata che il Dash che il Perry c'è tutto ci sono gli attacchi Egeri, Attacchi Besanti le abilità le magie c'è gli oggetti c'è qualsiasi cosa hanno unito un po' tutto quello che erano Bloodborne Souls Sekiro e Nioh hanno unito tutto quanto scrivono eh ma Sekiro rimane ragazzi secondo me è una cosa molto scientifica il perché Sekiro rimane meglio provo a spiegarlo poi mi dite se voi avete avuto la stessa sensazione va bene sì ma sono qui è un po' come cioè pere e carote sì allora io ho avuto la sensazione giocando a Oolong che ci sia ci siano due situazioni distinte nelle quali tu ti puoi approcciare ad un colpo situazione numero uno quella classica cioè quella che si verifica molto spesso in Sekiro cioè il colpo parte dall'avversario tu vedi il colpo che arriva e mentre l'arma dell'avversario fa il suo percorso verso di te hai il tempo tecnico per iniziare la parata e fai la parata poi ci sono gli attacchi in cui tu il colpo non lo puoi vedere arrivare perché dura due frame l'arrivo del colpo quello che puoi fare è imparare a memoria la tempistica di caricamento del colpo l'avversario fa e poi però in due frame il colpo arriva quindi tu lì non stai giocando di riflessi stai giocando di memoria perché ti ricordi quel particolare personaggio quanto gode prima di colpirti e premi e premi in anticipo e questa cosa non sarebbe orribile se solo non avessi gli alleati tra virgolette che continuano a interrompere gli attacchi nemici facendoti fare parate a vuoto a cazzo di cane facendoti sprecare la barra preziosissima della tua stamina che lì si chiama caparbeta come cazzo si chiama io questa il fatto di dover imparare a memoria perché poi hai questo effetto che la prima volta che vedi un boss ti ara ti distrugge la terza volta gli fa il perfect perché si tratta solo di imparare a memoria i suoi grugniti prima che arrivino questi colpi rapidissimi che sembrano sembrano veramente le botte dei conigli quando si accoppiano non le vedi arrivare quindi per me questo è il problema grosso di Wolong rispetto a quella che era la goduria tempistica di Sekiro il fatto è che Sekiro è un action Wolong è proprio un universo action RPG che comunque si costruisce sulle fondamenta di Nioh e quindi io ho giocato due ore quindi per carità di Dio ma sono abbastanza certo da quello che ho visto con le summon le magie lo skill tree le caratteristiche le 70 parametrie diverse mamma mia che si sinergizzano fra loro con i buff non buff cioè è comunque costruito con una grande preponderanza al perri alla deflezione al ritmo al quindi fare critici più che combo in passato per lo meno per ora poi ci sono entrambe le cose fate quello che è ovvio che sembri immediatamente migliore Sekiro ma non si sta parlando adesso di un giudizio tra i due titoli in quanto opera in quanto videogiochi ma letteralmente a livello di sviluppo dell'esperienza videogiocatore tu quello hai una cosa devi fare per riare e muoverti con le strumentazioni protesiche protesiche lì invece hai 32 opzioni diverse che tutte condurranno poi convergeranno alla build necessaria se vuoi fare le cose bene e quindi è ovvio che fai sì però boh ma io Sekiro cioè lo capisco è perfettamente naturale sono due cose diverse però a me piace molto come comunque si è presentato sono molto curioso di proseguire paradossalmente dicono risulta più facile quando prova a fare cose difficili ma questa è una caratteristica gli attacchi rossi critici invece di essere difficili da perriare rendono i combattimenti più rapidi è una cosa che c'è anche in Sekiro in Sekiro con i nemici difficili che facevano combo particolari la strategia era quella di stare lontani con certi attacchi imparare a capire quali erano gli attacchi più abusabili in contrattacco e parare solo quelli ci mettevi tre quarti d'ora a uccidere un boss però ce la facevi qui è la stessa cosa perché quando ti fanno un attacco critico effettivamente sì magari ti fa molto più danno se ti prende ma se impari a counterare il colpo critico lo scontro è tuo tecnicamente è abbastanza sì infatti i boss secondo me sono la parte più facile di tutto di tutto Wulong poi dipende anche dalla tua build perché tipo oggi ho giocato un paio d'ore ma le ho fatte tutte andando ad aiutare persone che volevano che mi hanno evocato per avere una mano e sono tutti molto sono ancora all'inizio ma non hanno una build quindi con i boss loro fanno un sacco di fatica io sono partito cose che non ho mai fatto in vita mia io di solito prima anni fa con gli action rpg il mio personaggio era il guerriero niente magie niente abilità il guerriero metti le armature più potenti le armi più giga mega e vai a a spaccare tutto invece adesso mi sto abituando a imparare queste meccaniche subito perché altrimenti poi mi ritrovo col culo all'aria fondamentalmente hai visto e infatti ho fatto la build veleno pensa una di quelle che si fa la quarta run ma in realtà ma non è così difficile però capito facendo la build veleno ho sfondato i boss perché poi appena ho sbloccato la possibilità di mettere il veleno nell'arma 3-4 colpi gli dai il veleno addosso gli fai danno a tempo ma io lo sto trovando veramente veramente ottimo veramente ottimo a livello tecnico purtroppo siamo stati molto sfortunati quest'anno con i giochi per pc forse solo Atomic Art è giusto che poi non è che è ottimizzato bene no ottimizzato bene vuol dire che parte bene cioè partire bene ottimizzato bene non dovrebbe essere un plus dovrebbe essere come cazzo esce il gioco si dovrebbe essere la normalità ecco Half-Life 2 era ottimizzato bene ottimizzato bene vorrebbe dire farlo partire a 244 Hz in un monitor a 21 nonni quello vuol dire ottimizzato bene se funziona non è ottimizzato bene funziona e dovrebbe essere un plus invece ormai anche Hogwarts Legacy aveva qualche scivolone di ottimizzazione vabbè a parte quella parte lì insieme a Wild Art che mamma mia Wild Art io non so non capisco graficamente che hanno combinato orribile è terrificante però a me sta piacendo veramente tanto l'ambientazione mi piace le arti marziali finalmente mi piacciono che i nioh erano leggermente trattenute nelle animazioni nella parte culturale delle arti marziali qui invece anche le emot che puoi fare sono molto spesso posizioni di katao di mosse proprio letteralmente ed è molto figo si rifà molto a quei film di arti marziali però quelli che non guarda nessuno quelli lì i Wu i Wu oddio hanno un nome specifico cinese quelli dove volano tra gli alberi con le corde quei film lì che non guarda nessuno a me piacciono da morire sono porno Vuxia bravissime no però non si chiama Vuxia non la pronuncia quei film lì che sono incredibili e Wulong si avvicina moltissimo ed è molto figo e quindi io ve lo consiglio di andare avanti sono contento che mi chiedi che tu faccia la maratona perché sono curioso di vedere se regge per te dai sto dando un'occhiatina all'articolo che preannuncia l'uscita di Counter Strike 2 mi sembra strano che Francesco non si sia triggerato malissimo ma proprio male male ti leggo una cosa non ti dico dove lo sto leggendo comunque è un portale importante ok la notizia arriva dal noto giornalista Richard Lewis già rivelatosi più volte estremamente accurato con le sue Richard Lewis che è sempre stato uno che più o meno ha zecato se fosse vero scrivono se fosse vero si tratterebbe della più grande pubblicazione di Valve dal 2012 madonna si è vero cazzo l'ho pensato Alex non l'hanno calcolato madonna no no guarda quella probabilmente è stata una svista di di chi ha scritto l'articolo secondo me o di un ignorante pazzesco cioè non è non è non può non può averlo scritto una persona normale diciamo così comunque effettivamente l'abbiamo messo pure nel titolo Counter Strike in poche parole per chi non lo sapesse a quanto pare Richard Lewis comunque un giornalista abbastanza attendibile che ci ha azzeccato molto nel tempo ha fatto notare che probabilmente a breve anzi addirittura entro la fine di marzo potrebbe essere rilasciata la beta di un nuovo Counter Strike che sia un Counter Strike 2 o un Global Offensive 2 questo è da vedere comunque sta di fatto che sarà ovviamente in Source 2 che è lo stesso motore di Alex Dota 2 o comunque tutti i prodotti Valve che sono usciti diciamo nell'ultimo periodo e sono molto in hype per questo anche perché voglio dire si tratta anche di continuare comunque un brand che ha dei titoli competitivi per me rimane uno dei dei migliori se così vogliamo dire appunto c'è da vedere se sarà proprio un ex novo nel senso un reboot diciamo reboot come posso dire una build diciamo totale da capo del gioco come per dire differenza da 1.6 CSS Go oppure sia qualcosa tipo CS 1.6 Condition Zero per dire cioè qualcosa di di completamente rifatto ma secondo me appunto sarà un Global Offensive 2 tra l'altro avevano notato anche può essere confermata sta cosa che nei driver negli ultimi driver Nvidia tra appunto le diciamo gli eseguibili riportati nel in parte dell'update dato che hanno fatto un po' di scraping c'è CS 2 e CS Go 2 .exe tutte e due quindi diciamo che potrebbe non essere falso quello che è stato detto anche però e qui ci colleghiamo un'altra cosa anche se potrebbero essere pure CS Go 2 e CS 2 City Skyline 2 dato che è stato annunciato ieri ah giustamente giustamente ho pensato pure sta cosa però appunto staremo a vedere anche perché City Skylines 2 hanno detto che verrà pubblicato nel 2023 secondo me sarà roba di Natale però beh comunque in effetti i tempi sono maturi per Counter Strike io quello che non capisco di Counter Strike è lo fanno uscire così a buffo te piatevi la beta guarda non lo so sinceramente perché non hanno mai cioè non hanno fa nella storia non hanno detto oddio forse con Alex hanno fatto una cosa simile in effetti Alex mi sa che è preso e uscito sì Alex è preso e uscito praticamente però era un periodo particolare quello di Alex sì comunque stanno ricordando una cosa importante parentesi a quello che stavo dicendo che praticamente City Skylines 2 sarà su Game Pass e sarà in italiano perché in genere i titoli paradox non li tradurono quasi mai in italiano però è un'altra cosa interessante sì no Alex uscì così all'improvviso Counter Strike potrebbe essere anche la stessa cosa anche perché voglio dire molto spesso Valve abbiamo visto che ha preso e buttato roba per vedere appunto come va però comunque una delle cose più importanti è che ora i server per quanto riguarda il matchmaking e quant'altro sono andati da 98 a 128 di T-Crate e quella dovrebbe essere la cosa più importante diciamo per me l'importante è che non sia free to play guarda anche per me devo essere sincero anche per me non deve essere free to play sì perché ma non perché uno dice no vabbè voglio la cosa elitaria così siamo soltanto noi a giocarci è proprio una questione di politiche di sviluppo perché è un gioco che deve essere free to play viene impostato in un'altra maniera la maniera che non mi piace no 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 capisco benissimo quello che intendi è appoggio appoggio in pieno a proposito di sparatutto free non free insomma competitivi è uscito sono usciti gli hands on di un gioco molto interessante che io non gli avrei dato due lire perché avendo visto il trailer mi aveva fatto un po' cagare perché ci sono i rampini si power salta e mi dà molto fastidio in uno sparatutto in prima competitivo però da questi gameplay mi sono rimasto stupefatto si chiama The Finals ed è uno di due giochi che stanno facendo uscire ex sviluppatori dice che avevano lavorato ai battlefield belli possiamo dire si sono spostati hanno creato il loro team e stanno facendo questo The Finals che è uno sparatutto in prima abbastanza frenetico e movimentato ma la cosa figa è che tutta la mappa è quasi al 100% distruttibile e quindi puoi buttare letteralmente buttare giù palazzi quindi non ci crede più competitiva Bad Company 2 beh i ricordi Bad Company 2 rimane uno dei più belli infatti ma Bad Company 2 è incredibile infatti chissà se faranno Bad Company 3 dopo tutto il delirio di Battlefield ma comunque la cosa bella è che qua mi sembra che la modalità principale sia trova delle scatole che poi inserisci dentro un macchinario e ti farmano soldi la squadra che ha più soldi vince ma tu questi macchinari li puoi far cadere dai palazzi li puoi spostare hai capito se tu vedi una squadra che sta farmando in un posto tu puoi bucare il tetto ma tutto in Quake 3 Arena però capito non è Rainbow Six Siege è molto frenetico e quindi ho visto i video ed è sembra incredibile ma è Fat Princess action praticamente bravissima è più pieno hai tirato fuori l'antichità carino bello si poi il problema appunto a me sono venuti in mente Hyper Scape e Low Breakers che sono purtroppo due giochi così molto più frenetici qui sembra più frenetico il trailer un po' come ve lo ricordate qualche anno fa quando doveva uscire Player Unknown tipo per Xbox e fecero vedere quel trailer dove facevano vedere soltanto esplosioni di inseguimenti con i piccoli Player Unknown e poi non è mai così il trailer è così il trailer fa vedere loro che saltano si ammazzano sparano tutto casino poi sono usciti i gameplay ed è molto più tranquillo di un Hyper Scape o di Low Breaker che sono morti ricordiamo che sono assolutamente morti Low Breaker credo sia stato uno dei più veloci fallimenti nella storia dei videogiochi insieme alla povera anima di Battle non mi viene l'ultima volta che ho sentito parlare di mappa completamente distruttibile era con Crackdown 3 no però quello è davvero Battle Born il buon animo la ricetta però parte bene da come l'hai descritta la ricetta parte bene perché è la stessa ricetta che ha partorito Respawn cioè una costola di uno studio dedito a giochi di qualità distaccatasi separatista che poi dà origine a uno studio magari più piccolo ma fatto di gente che c'ha la gazzimma quindi potrebbe essere un Titanfall e tra l'altro lo stesso team sta facendo un altro gioco che è una cooperativa di soldati contro robottoni che sembra fighissimo anche quello io non capisco stanno facendo due giochi visivamente anche a livello di gameplay sembrano proprio quello che vuoi cioè spegnere un po' il cervello e fare cacciara e cazzo sembrano tutti e due bellissimi e l'ho scoperto l'altro The Finals l'ho scoperto perché c'era l'embargo e lo vedi nella tua timeline videoludica l'embargo perché ci sono 50 video tutti insieme della stessa cosa e l'altro è Ark Riders che sembra bellissimo anche quello l'ho scoperto semplicemente cliccando su di loro su Steam è apparso anche quello io non lo conoscevo quindi quest'anno non solo siamo partiti alla grande ma sembra che si proseguirà alla grandissima quindi sono contento sì è un bellissimo inizio next gen dopo due anni però meglio tardi meglio tardi che mai no più che altro parlo di next gen perché la completa distruttibilità era una delle feature che mi aspettavo dalla next gen a proposito sulla next gen current gen ormai domanda io ho notato una cosa forse sono io che sono stronzo e paranoico quando arrivarono le nuove console a casa nostra e io ci giocavo uno dei primi giochi che ci ho giocato sulle nuove console è stato Watch Dogs Legion io sono rimasto fulminato dal fatto che per la prima volta un open world aveva caricamenti di 4 secondi da una zona all'altra erano caricamenti di una rapidità quale gioco scusami? Watch Dogs Legion ok io ti giuro cari mi sono cagato addosso perché io su quei giochi ho sempre paura tipo a viaggiare nella mappa a riavviare una partita perché mi rompo il cazzo ad aspettare io ho ancora le cose di GTA 5 no? no no che è un trauma GTA 5 è sempre stato per tutti quando i primi gameplay che ho fatto io ero continuamente a fare viaggi rapidi spostarmi e dire raga cronometriamo cronometriamo 5 secondi raga 5 secondi non ho aspettato niente siamo nel futuro vaffanculo butto il pc ma voi avete più trovato giochi così veloci a caricare perché non ce ne sono non ne ho più trovati di giochi rapidi nel primo periodo ci puntavano tantissimo su quella cosa adesso o si sono resi conto che i giocatori se ne sono scordati che dovremmo avere quella feature su tutti i giochi oppure hanno spostato su altro la loro attenzione ma non so a voi come mi sembra l'ultimo che mi ricordo è stato Demon's Souls Demon's Souls sfruttava l'SSD e aveva l'animazione però parliamo sempre di quella parliamo sempre di quel periodo di lancio esattamente perché adesso per esempio su Wolong mi sono rotto i coglioni a aspettare i caricamenti ma perché siamo tornati proprio indietro bestia non è neanche poco è proprio tanti aspetti ogni volta c'è un altro problema non voglio raccontarlo che è lunghissimo però sì perché poi devi aspettare ci sono due caricamenti poi devi anche premere X per andare avanti Ghost of Tsushima però appartiene sempre a quel a quel periodo lì cioè nel senso listare esclusive Sony non ha senso perché loro sono spinti proprio a dire raga dovete farlo funzionare caricamenti veloci anche Forbidden West fai e ci sei appunto ho citato Watch Dogs Legion un multi piatta esatto bisogna cercare le cose più esterne esatto Forspoken però pure Forspoken sì era abbastanza veloce Forspoken effettivamente però veloce normale non veloce che te ne accorgi era veloce accettabile per la next gen Wollong e Cross Gen è perché Watch Dogs Legion era solo per Next? no non mi ricordo non mi ricordo proprio Watch Dogs? Legion no mi sa che era Cross a meno che non sia stato ragazzi c'è il classico Watch è difficile guardate che è difficilissimo ricordarsi cosa era next gen e cosa no perché visivamente parlando non lo è non lo è non lo è Cross Gen mi sa che sulla Next avevamo un minimo di come si dice di ray tracing rispetto alla versione sì vi ricordo che era uno dei titoli che praticamente doveva avere ray tracing o comunque effetti visibili particolari infatti se non mi ricordo male Watch Dogs Legion sembrava sempre che avesse appena piovuto sì perché è vero che era Londra però sembrava sempre tutto un po' bagnaticcio proprio per darti l'effetto RTX bello sì sì era tutto marmo la città l'effetto bagnaticcio se ci avete fatto caso è comunque stato sempre presente anche nel cinema forse no nel senso il fatto delle strade che sono sempre bagnate da Batman Arkham che l'ha proprio esagerato perché pioveva sempre sempre il cupo brutto il tempo era sempre una merda Arkham City e vabbè però effettivamente tutti quanti i titoli di mi ricordo proprio quel lasso di tempo erano tutti quanti bagnati a terra c'era sempre quell'umidiccio proprio per far vedere quanto più figo fosse il gioco l'ambientazione con con le le reflection perché effettivamente metti bagnato a terra è tutto più figo l'illuminazione è più bella è più piena ti dirò di più c'era un gioco che proprio cioè Sleeping Dogs la città di Sleeping Dogs finché non pioveva era nè quando pioveva era bellissima però cambiava proprio dal giorno alla notte quando pioveva in Asylum anche all'interno era pieno di pozze d'acqua è vero però nessuno ci fa caso fino a quando non lo noti ma ma raga ma il Sons of the Forest io e Nicola ci stiamo giocando miglior gioco dell'anno a mani bassissime miglior gioco dell'anno Sons of the Forest piace il sacco ma da morire è bellissimo e non l'ho ancora provato in single player o in multiplayer in multiplayer sto giocando in multiplayer ma stai costruendo mi sa che stai facendo col gatto no? sì non stiamo facendo la base stiamo andando spediti per i punti di interesse che ci sono sul GPS perché io e Mario siamo fatti a cazzo dei cani come al solito e e non abbiamo cioè siamo arrivati sulla neve non c'è niente il nulla zero sì la mappa se ne stanno lamentando un po' tutti la mappa è leggermente una puntina troppo vuota cioè ogni tanto trovi anche cose che non sono nei punti di interesse del GPS tipo accampamenti tipo villaggetti dei 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 selvaggi e cose simili però è una puntina vuota diciamo che non è una cosa troppo negativa per me mi piace il fatto che ogni cosa sia un evento e che non ci siano 30.000 cose una dietro l'altra quindi quando trovi vedi qualcuno in lontananza dici andiamo lì a vedere subito che cos'è però sì la neve non era un pochino vuota noi da quando siamo arrivati alle pendici della montagna finché non siamo arrivati su che c'era la neve non c'è successo nulla siamo entrati in una caverna abbiamo detto ok qua c'è qualcosa niente cioè finché siamo rimasti lì nessuno ci ha attaccato nessuno ci ha dato fastidio non c'erano neanche animali in realtà era proprio vi faccio questa domanda dove siete spawnati voi? quando siete vicino ostia non lo so dove siamo spawnati? è sempre il solito posto quando crashi con l'elicottero no perché ce ne sono tre diversi io ho giocato in singoli in multi stesso posto ok perché io e Gatto siamo gli unici di quelli che conosciamo che sono spawnati sulla neve l'elicottero è caduto sulla neve quindi noi siamo partiti da sopra la montagna e siamo scesi giù vedevamo tutta l'isola e noi infatti si siamo stupiti quando ci hanno detto che gli altri tutti sono spawnati in acqua sono caduti con l'elicottero in acqua e da lì sono usciti e sono arrivati alla spiaggia invece noi al contrario sempre in mezzo la foresta a voi in mezzo la foresta e invece si può anche spawnare in acqua per dire che cosa che è carino sì 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 infatti quindi noi siamo arrivati da lì dalla neve ma in quanti si può giocare insieme? non lo so non so se c'è un limite a 4 sicuro 4 perché gli altri si stanno giocando in 4 8 bellissimo beh in 8 però è super easy diventa come la coppia dei souls che ari tutto ma si fa? vogliamo fare una partitina noi 5 oh a questo punto ci sta se volete per me sì cioè io mi divertirei cioè scala con la difficoltà con il numero di giocatori chiedo alla chat qualcuno ha detto aumentano i mostri però non so aumentano i mostri ma lo vediamo devastate tutti così forse non avete capito quanto gioco male io a parte che c'è il fuoco amico quindi in 8 voglio vedere 5 voglio vedere però noi abbiamo smesso di giocarci perché sembrava troppo vuoto infatti abbiamo detto vabbè aspettiamo gli aggiornamenti perché col fatto che è una early access ad aggiornamento che tra le altre cose per farti capire temporalmente noi abbiamo giocato il giorno dopo hanno messo i tasti rapidi ah non c'erano da subito i tasti rapidi? no ok è uno di quei però rispetto al primo The Forest almeno qua dovrebbero aver messo anche il finale quindi tu te lo puoi giocare tutto e poi pian piano aggiungono qualcosa all'interno non aggiungono il finale dove tu devi rimanere bloccato finché non arriva dunque ho visto che si può speedrunnare in 9 minuti eh sì perché la cosa migliore perché alla fine The Forest non è Sounds of The Forest non è tanto diverso dal primo The Forest però hanno messo delle cose secondo me migliori per esempio tu inizi che hai un GPS con vari punti di interesse due tipi di punti di interesse vi ho dato un'occhiata vi ho specchiettato esatto e la cosa figa è che tu puoi giocartelo come il primo quindi trovi un bel punto ti fai la base la casa le trappole tutto quanto oppure corri corri e vai a fare i punti di interesse e ti fai soltanto trama tra virgolette esplorazione ed è giocabilissimo comunque quindi veramente l'hanno migliorato da quel punto di vista ma in multiplayer si può fare alla rust maniera cioè che ti trovi casa di altri e spacchi lutti distruggi credo che sia cioè lo puoi fare ma non è quello lo scopo del gioco nel senso ti puoi fare due case separate massacrarti ma non credo serva a niente in The Forest facciamolo lo trasformiamo in un free for all così ognuno in un punto della mappa no vabbè a parte gli scherzi comunque io ci sarei per farlo tutti assieme volentieri volentieri ci sono delle zone in cui ti cagli sotto a prescindere perché poi ti arrivano da dietro saltando e basta vabbè ma in 5 non avremo mai paura in 5 cioè finisce per forza a cacciare a maledetta ma Kelvin c'è sempre a cacciare il kill Kelvin c'è anche se si gioca in 8 chiedo perché in 2 sì in 2 esce in 2 c'è in 2 c'è sì c'è sempre perché Kelvin credo sia uno dei delle sorprese di quest'anno come le pc il tuo lobotomico oggi madonna oggi ho visto un montaggio di tutte le minchiate che ha fatto Kelvin nelle live degli streamer che tutti hanno l'idea credo come nel primo dei forest di fare la casa sull'albero su un albero cioè loro trovano un albero e ci iniziano a costruire tutto Kelvin ha la brillante idea dopo averla costruita tutta di buttare giù un albero e crolla tutto con loro che da lontano ed è stato molto bello è stato molto bello lo aggiusteranno lo aggiusteranno ma io sono di nuovo e l'amico è scemo è perché è divertentissimo a noi ci portiamo fagli portare il pesce e lui arriva ovunque tipo sulla neva arrivava questo cazzo di sanmone dietro però è antifimato ci caccavamo sotto perché non c'era nessuno eravamo solo noi non guardi la minimappa te lo vedi dietro che arriva di soppia poi gli chiedi di costruire un falò lui lo fa prende il legnetto lo spacca col ginocchio costruisce tutto lo accende e ci si siede perfettamente sopra e vedi che prende da lontano vedi dici ma c'è un incendio vai avanti c'è lui completamente ricoprire le fiamme da solo tu non hai fatto niente e c'è il suo amico un po' cretino che poi anche lì gli dici di costruire un rifugio prende il telo mette il bastone e ci va sopra si siede e lo vedi sdraiato sopra tra l'altro mezzo metro perché il litbox è molto più alta quindi lo vedi in piedi sopra il cazzo di cosa è incredibile Kelvin è proprio l'amico che tutti vorremmo che poi non lo inviti mai a cena però è divertente fare brutte figure esattamente ma fino a un certo punto esatto a piccole dosi no no ci sta ci sta assolutamente secondo me ragazzi quando si vuole fare perché se io ci conosco abbastanza credo che che poi alla fine rischiamo di non farlo ci vogliamo prendere un appuntamentino per fare questa cosa vogliamo fare il prossimo martedì per me che giorno è il prossimo martedì? il prossimo? che giorno è? 14 ci sta purtroppo stream ma sempre sempre solo fra perché lì sarebbe carino il multi angle cioè un po' il multi pop o il 14 o il 21 il 14 è proprio il prossimo martedì il 21 sarebbe il prossimo martedì di all gen me e io ci sono dovrei esserci vi confermo perché ho dei giorni impegnati però non mi ricordo quali ci sta ci sta tutto figo sì sì io sono contento se ci facciamo questa partitina so che magari poi non può essere convertito in in un podcast però comunque è un bel content tu Michele lo hai giochicchiato o ce l'ho mai mai nemmeno quegli altri tu sei proprio blind perdici perdici un'oretta prima di di entrare con noi perché veramente l'inventario è bello io me lo devo prendere infatti ancora pure eh raga provatevelo un pochino io ci ho messo un'ora e mezza a capire come funzionasse l'inventario non perché sia complicato ma perché all'inizio pensi che sia solo quello invece è proprio tipo un campo da calcio è vero devi girare la testa per guardare tutto il cazzo di inventario che sei in first person mentre guardi l'inventario non sei in un sottomenu è proprio la tua testa che può guardare destra a sinistra e a volte ti perdi le cose perché magari hai davanti un telo di due chilometri quadrati cerchi il chiodo capito il chiodo devi proprio guzzare la lista per trovare però una volta superato diciamo così questo questo inventario un po' particolare funzionale perché è molto strano il resto è tutto abbastanza intuibile soprattutto adesso che puoi assegnare gli oggetti ai tasti rapidi prima invece dovevi aprire l'inventario anche per mettere via l'accetta e prendere per dire la torcia era un po' un un abbraccio in culo quella cosa però adesso non è più dai dopo Wulong credo sia tutto semplice io non so quando lo dropperò perché io con Nioh sono arrivato finché potevo evitarmi la parametria poi sono arrivato a un boss che sparava sparava gelo ho cominciato a vedere che mi dovevo mettere le babbucce invernali i polsini contro il freddo la sciarpina la tisana vai affanculo ho detto mi ero proprio rotto i coglioni poi c'avevo di stessi stivali ne avevo 200 perché si droppa di continuo su quei giochi quindi avete visto final fantasy 16 sono usciti i gameplay ne dovremmo parlare ma non adesso perché è un argomento grosso final fantasy 16 gigante ma secondo voi droppano una demina sarebbe figo molto avrebbero il tempo di farlo tra l'altro in teoria i gameplay che sono usciti sono di una demina se non ho capito male sono di un sì una closed door un pezzo di gioco chiuso fatto apposta per per chi è stato invitato esatto credo sia confermata verso inizio giugno la demo ah ah ok ah è già confermata bene un mese prima quindi esce a luglio esce a luglio final fantasy 16 eh guarda io sono l'ultima persona sì mi sembra sì dovrebbe sì sì quest'estate 26 giugno 26 giugno ah ok quindi sì un mese prima quindi inizio a giugno qualcuno dice due settimane prima due settimane prima ok per me la demo sarà in realtà sarà la discriminante così come è stata a posto cioè farà da demo guarda che se lo dici in giro cioè io quando dico in giro raga ho provato la demo di Forspoken non mi è piaciuto eh vabbè ma te hai provato solo la demo e che cazzo devo provare il foglio Excel delle fatture no io voglio voglio chiedere giusto perché mi avete fatto sentire solo siamo quasi in chiusura voglio sapere se c'è altra gente che si è emozionata per City Skyline 2 dell'annuncio no perché mi avete preso mi avete preso per il culo quando l'ho detto beh sì perché sì mi descrivi ma per goliardia mi descrivi che cosa si fa io non l'ho mai visto neanche cosa si fa in City Skyline perché compone o virus ok ma è SimCity fatto meglio è un gestionale è un gestionale di città è un City Builder ah ok è un City Builder ma pensavo fosse un po' diverso guarda io in realtà sono sempre stato fan di SimCity io c'ho ancora la scatola del primo per dire che compro mio padre che è stato uno dei primi giocatori che ho giocato giocato tutti stra fan di SimCity ti dico solo sarà mega fan appena ho scoperto City Skyline SimCity boom ok dimenticato tutto ma perché cosa ha di più di più appealing rispetto a vai molto più in profondità per quanto riguarda la costruzione puoi fare mappe che sono tipo non scherzo forse 30 volte quelle di una di SimCity cioè ti viene una città che può essere può esserti una Roma una Milano una qualcosa di molto più grande cioè come come spazio lo puoi gestire bene cioè per esempio in genere su SimCity metti stazioni della metro e fai la linea invece là ti fai le stazioni ti crei le linee e fai proprio linee la linea va la prima da qua 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 e fa questo ritorno fa da questa questa questo questo per dirtene una tu puoi seguire il singolo cittadino per capire dove sta andando al lavoro dove abita reti commerciali ti fa il grafico di dove va tutto quanto dove ritorna 1984 simulator per la miseria è urwelliana questa cosa no raga ma guarda è un è un rabbit hole City Scaline cioè se ti prende che inizia a giocarci è la fine appena ho visto il 2 cioè è stato un hype tremendo guarda io mi fido sulla parola fra lo sai non è no no fidati guarda se ti metti ma guarda è adatto sia per chi vuole giocare cioè ci vuole dedicare poco tempo sia per chi ci si vuole chiudere cioè non è un gioco che necessariamente devi starti a scervellare tutto quanto c'ho il primo sullo game pass e in italiano il primo fran? no no infatti City Scaline 2 per la prima volta sarà in italiano ok ok però lo voglio provare per il prossimo il gen lo voglio voglio averlo provato e giocato un pochino dai perché comunque io in City ci ho giocato tantissimo io sai cosa giocavo Francesco? ti stupisco Railroad Tycoon madonna che bello pure quello era fighissimo era fighissimo però cioè detto dalla mia bocca è una follia che mi piacciono seguire i giochi lì però li giocavo i gestionali li giocavo tantissimo ma senti provalo perché parto la tua graduale è molto graduale e ti dà un senso di libertà incredibile molto molto bello ok lo provo lo provo anche perché vuol dire così la prossima volta non sarai più solo questo lo facciamo anche per non farti sentire solo no vabbè sì perché ho tirato fuori il compagno virus e mi avete dato le secchiate City Scala in 2 e mi avete tirato le pietre cioè però con i sonso ti abbiamo dato tante soddisfazioni eh hai voglia grandiosa io vedi io rappresento Counter Strike abbiamo parlato di Counter Strike Francesco è incredibile Counter Strike infatti io rappresento appunto tutte le quote tutto quel che non toccate tutti i AAA non comandati cioè tutto quel che si oppone ai AAA comandati mainstreamer che siete diventati siamo dei casualoni non è vero no ma non dei casualoni dei mainstreamer ci sono tanti giochi ci sono tanti giochi così brutti che proviamo io e Nicola fidati ogni settimana almeno 8 sì sì ma quello lo so quindi quindi noi è vero che siamo per i AAA però siamo anche con i meno 4A noi eh e sono quelli nel mezzo sì ma sono io ma sono pure io quello che va a pescare l'immondizia per cercare per tirare fuori loro però voglio dire Atomic Heart ne vogliamo parlare ragazzi Atomic Heart l'abbiamo sfiorato l'argomento ma tra l'altro di Atomic Heart con tutto quello che sta succedendo eh a livello proprio delle solite guarda sono contento che non ne abbiamo parlato perché insomma ci sono un sacco di polemiche sterili intorno all'Atomic Heart sì è vero mosse da gente che o non l'ha giocato o semplicemente non ha capito un cazzo del contesto che si racconta vado ti prego sì dillo pure tu perché se lo dico io mi danno del pazzo no non ha cioè il concetto di società che esprime Atomic Heart e la critica sociale che c'è in Atomic Heart non c'entra una minchia con la Russia di Putin proprio una minchia niente no a parte quello ma poi voglio dire la società che mostra è quello in cui va contro tra l'altro esattamente sì non capisco neanche che si parla dell'opposto vabbè ragazzi che dobbiamo fare funziona funziona così comunque sono già le sei e un minuto ragazzi abbiamo sforato di un minuto insomma quando la facciamo sta cosa su figli della foresta conviene metterci d'accordo forse dopo la live perché mi sa che ognuno ha impegni diversi io almeno io a memoria non me li ricordo ok scheduliamo ok quindi vi faremo sapere ragazzi vi comunicheremo la giornata di test di gruppo su Sons of the Forest in gopa Instagram molto probabilmente un po' da tutti eh sì la pagina Instagram di Olgen che non esiste non temete cercatela ci sentiamo su Facebook mamma mia ciao ragazzi buona prossima ciao welcome to your day